La Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la caccia. Secondo Bruxelles, diversi atti legislativi italiani non sono conformi alla legislazione europea. La norma italiana, infatti, conferisce alle regioni il potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica anche nelle aree in cui la caccia è vietata, come le aree protette, e durante il periodo dell'anno in cui la caccia è ferma. L'Italia violerebbe anche il regolamento che limita l'uso di pallini contenenti piombo. Secondo l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, numerose ricerche hanno dimostrato come il munizionamento da caccia rappresenti una fonte non trascurabile di inquinamento da piombo, in grado di avvelenare gli uccelli selvatici, contaminare il terreno e determinare un rischio sanitario per l'uomo. Contemporaneamente a questa procedura ne è stata aperta anche un'altra per la mancata attuazione da parte dell'Italia delle misure per evitare le catture involontarie di cetacei, tartarughe e uccelli marini da parte dei pescherecci.